E torniamo in diretta, Anubi contro lo sciagallaggio mediatico, sono le 18.25 noi entriamo nel vivo dell'argomento più importante della prima parte di Anubi che è la questione rifiuti, l'emergenza rifiuti a Roma e lo facciamo con un ospite importante con l'onorevole Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente dell'Assemblea Capitolina Buongiorno Diaco Sì, salve, buongiorno a voi, grazie dell'invito, mi sentite bene? Sì, sì, la sentiamo bene Sì, sì, bene Perfetto Buonasera Diaco Buonasera a voi Grazie alla disponibilità, ripetiamo anche il piccolo ritardo, ma la dieta è bella anche per questo e noi insomma oggi vogliamo un po' risolvere dal punto di vista dei contenuti anche semplicemente linguistici una questione, la questione che naturalmente l'emergenza dei rifiuti di Roma è un'emergenza reale che tutti i nostri concittadini possono verificare tutti i giorni è un problema atavico di questa città che viene da molto lontano diciamo che potrebbe essere interessante ragionare sulle soluzioni a portata di mano recentemente c'è stata insomma una polemica, uno scambio di battute fra il sindaco Virginia Raggi e il presidente regione Luigi Zingaretti su un rimpallo di responsabilità in merito alle competenze regionali e al contributo che la regione può offrire nel risolvere l'emergenza rifiuti insomma cerchiamo col suo aiuto inizialmente di portare qualche contenuto reale, realistico qualche prospettiva realistica di intervento perché effettivamente dal punto di vista, ripetiamo, estetico dell'impatto quotidiano il problema sembra essere enorme e per i meno ottimisti anche irrisolvibile vista la storicità di questa problematica per Roma Sì, noi come abbiamo detto più volte sia l'assessore che la sindaca Raggi veniamo da un sistema di rifiuti praticamente compromesso nel senso che negli anni addietro ogni rifiuto veniva conferito nella discarica di Malagrotta che è appunto la discarica più grande d'Europa questa discarica fu chiusa nel 2015 poi da allora più nessuno ha ipotizzato comunque la post chiusura di Malagrotta perciò non è stata ipotizzata nessun tipo di impiantistica o comunque nessun tipo di modalità che potesse poi smaltire i rifiuti a Roma ecco, quello che ci troviamo oggi è una discarica che richiede giustamente una bonifica e anche di questo insomma la regione deve fare assolutamente la propria parte noi oltre ad avere una discarica chiusa ci troviamo con un'impiantistica datata insomma ecco, obsoleta se così possiamo dire che sono appunto i due impianti di trattamento meccanico-biologico che sono quello a Salaria e quello a Roccacincia e più un impianto di compostaggio aerobico a Maccaese che lavora dalle 20.000 ai 30.000 tonnellate di umido questo sicuramente non chiude il ciclo dei rifiuti a Roma anzi diciamo che copre soltanto un 30% insomma per quello che sono i rifiuti nella capitale e sicuramente quello che noi abbiamo fatto sin dall'inizio è ragionare su un piano strategico un piano industriale efficiente ed efficace che potesse in tempi rapidi arrivare intanto una raccolta differenziata importante perché appena ci siamo insediati il numero della percentuale di raccolta differenziata che girava intorno ai 30-35% oggi siamo al 40-44% perciò sono stati fatti sicuramente dei passi in avanti e abbiamo elaborato il 30 marzo è stato votato il piano strategico sui rifiuti da parte del nostro assessore Amuntanari che insieme alla Commissione Ambiente insieme alla Sindaca ha elaborato un piano di rifiuti efficiente questo piano di rifiuti mira a chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma oggi noi chiamiamo materiale post consumo perché riteniamo che già la parola rifiuto di per sé è un qualcosa che viene preso e viene poi gettato noi invece riteniamo che il materiale post consumo è una ricchezza ed una risorsa cosa che senza dietro chiaramente non era ipotizzabile o comunque non è stato preso in considerazione questo tipo di approccio verso i materiali post consumo noi abbiamo ragionato che Roma deve aumentare assolutamente il livello di raccolta differenziata e vogliamo arrivare al 70% vogliamo arrivare a una percentuale importante vogliamo arrivare anche a una diminuzione di rifiuti a Roma perciò abbiamo ipotizzato di arrivare a meno 200.000 tonnellate di rifiuti in materiale post consumo per la capitale d'Italia questo sicuramente è un dato importante, una bella sfida e anche una grande meta e vogliamo comunque dare ai cittadini romani un'impiantistica intanto sostenibile ad impatto molto ridotto perciò parliamo di impianti di compostaggio aerobico parliamo di isole ecologiche, perciò di materiali ingombranti parliamo di domus ecologici che sono delle micro isole ecologiche dove il cittadino può conferire e può essere data in dotazione anche una green card cioè una carta per il cittadino virtuoso che conferisce bene e che chiaramente ha un ritorno dal punto di vista economico perché è agevolato da una tariffa puntuale oltre a questo abbiamo ipotizzato dei centri di riuso creativo i centri cricche sono stati definiti e sicuramente questi centri di riuso creativo oltre a dar vita al prodotto, perciò alle materie prime o comunque a quello che prima era un rifiuto adesso la materia post consumo verrà ricreata un'altra materia prima perciò possiamo creare degli abiti possiamo creare nuve immobili possiamo creare anche un arredo urbano per la città stessa e creare anche un'economia circolare e sicuramente possono dare anche posti di lavoro oltre a questo abbiamo sicuramente messo in campo l'idea di creare questa impiantistica sostenibile perciò di fare un passo successivo e di arrivare poi a una chiusura chiaramente spieghiamo nel minor tempo possibile per quanto riguarda l'impianto di trattamento meccanico-biologico di salaria quello di Roccacencia e allo stesso tempo arrivare a un 70% di raccolta differenziale diciamo questo entro fine della sindacatura fino diciamo quindi nel 2021 giusto? era quello l'obiettivo? è un programma chiaramente a lungo termine è un programma adesso quadriennale perché chiaramente è il primo anno passato però diciamo a breve i cittadini quello che vedranno sicuramente intanto sono le isole ecologiche e le domusse ecologiche e i centri di riparazione e i ricicli di riuso ecco queste sono sicuramente i primi impianti che il cittadino vedrà a breve intanto noi vorremmo inoltre creare degli uffici ama all'interno dei municipi perché noi riteniamo che il cittadino deve interloquire direttamente con una municipalizzata quella che è ama insomma diciamo deve rapportarsi in modo immediato con l'operatore con il capo are insomma che sicuramente può dare una risposta efficiente efficace e anche tempestiva al cittadino che ha sicuramente delle esigenze forse quando si ritrova al secchione pieno allora va al municipio e può interfacciarsi direttamente con Roma perciò deve passare i numeri verdi insomma avere un contatto diretto con la municipalizzata ecco questo sicuramente è importante non è ne stato fatto e noi riteniamo che in tutti i municipi di Roma ci debba essere un ufficio uno sportello Diaco per ottenere diciamo queste nuove realtà da qui ai prossimi anni le isole ecologiche le domus ecologiche l'impiantimento del riciclo ed il riuso necessita l'amministrazione capitolina anche di scegliere proprio sul territorio alcuni punti strategici per da destinare insomma a questi a questi bisogni e se sì diciamo visto che in questi ultimi anni c'è sempre stato l'eterno problema della sindrome nimbi da parte dei vari quartieri tutti quanti dicevano no fallo da un'altra parte non lo fare da me e quindi non si riusciva mai a sciogliere questo nodo diciamo ci saranno invece questi in base a questi in relazione a questi nuovi progetti di cui lei ci ha parlato poc'anzi e delle dei luoghi già destinati insomma che già pensate di destinare per questi progetti guardi noi pensiamo che tutte le istanze e le decisioni devono essere comunque prese e provenire dal basso insomma ecco perciò sicuramente un'attività di confronto con i municipi che sono l'organo di prossimità perciò insieme ai cittadini chiaramente trovare quelli che sono poi i luoghi ideali per creare un'impiantistica ripeto sostenibile a differenza di impiantistica insomma che oggi chiaramente conosciamo come quella appunto nel salario a Roccacincia sicuramente non verranno poi diciamo toccati questi territori che sono stati vessati insomma da molti anni hanno subito sicuramente problematiche appunto legate a cattivi udori o comunque al traffico regolare insomma di media ma questo sicuramente è importante ribadirlo però ecco sono decisioni che vengono prese verranno prese con i municipi e con la cittadinanza perciò tre luoghi che verranno individuati con l'organo di prossimità e perciò un lavoro sinergico e congiunto con la cittadinanza allora diciamo che l'obiettivo è quello di portare diciamo il ciclo dei rifiuti quasi alla chiusura 70% differenziata e utilizzo di strumenti moderni di gestione dei rifiuti senza incrementare neanche emergenzialmente l'utilizzo di discariche anche provvisorie ho capito bene è questo l'obiettivo virtuosissimo noi assolutamente già oggi insomma ho lanciato una dichiarazione dove in modo esplicito sia io ma chiaramente l'assessore e l'amministrazione tutta noi ribadiamo che a Roma non necessita né di una discarica né di un incineritore ecco siamo fortemente contrari a questo tipo di impiantistiche a questo tipo di soluzioni se così si possono definire noi siamo per un riciclo della materia prima perciò noi dal materiale post consumo dobbiamo avere una risorsa dalla discarica né dall'incinitore sicuramente avremo diciamo questo profitto e questo diciamo questa possibilità insomma di offrire ulteriore ricchietta insomma a quello che è poi il materiale post consumo perciò ribadiamo la nostra dichiarazione chiaramente alla contraria insomma di una discarica di un incineritore anche perché Roma ha già dato con la discarica di Melegrotta insomma Roma ha supportato già abbastanza perciò i cittadini da questo punto di vista sposano la nostra battaglia e noi chiaramente sposiamo la loro insomma noi non ribadiamo non vogliamo discarica a Roma chiediamo assolutamente insomma anche a chi ci preme comunque da parte di altri enti di altri organi istituzionali ad arrivare insomma a creare appunto questo tipo di impiantistica noi rimaniamo nella nostra posizione diciamo assolutamente lei insomma l'amministrazione ritenete che la messa a regime di questo programma senza ricordo della soluzione emergenziale sia sufficiente per evitare nuove crisi nuove emergenze rifiuti a Roma oppure insomma di qui almeno a qualche mese dobbiamo aspettarci qualche altro cortocircuito magari semplicemente dovuto al fatto che la messa in atto di un programma così rivoluzionario per Roma è complicato sì allora come abbiamo detto gli impianti ad oggi stanno lavorando H24 perciò comunque si sta lavorando in modo intenso e anche in modo molto duro ecco da parte degli operatori che stanno svolgendo e svolgono un lavoro veramente incomiabile perciò da questo punto di vista noi siamo tranquilli e seri ma adesso quello che dobbiamo pensare è mantenere la città pulita decorosa e dare ai cittadini un servizio importante ed efficace quanto quanto c'entra l'attuazione del piano regionale rifiuti nella gestione diciamo virtuosa dei rifiuti a Roma qual è la parte che deve fare la regione secondo voi rispetto a questo piano di rifiuti la regione ha un ruolo chiave centrale insomma diciamo intanto la regione dà le autorizzazioni perciò comunque riveste un ruolo da questo punto di vista è fondamentale insomma perciò quello che deve fare la regione è intanto presentare un piano industriale insomma un piano dei rifiuti comunque nel minor tempo possibile almeno questo noi ce lo auguriamo ecco perché comunque non è stato ancora ad oggi presentato e sicuramente la regione deve sbloccare molte autorizzazioni perciò viene degli impianti fermi ecco questo provoca dei problemi o comunque delle criticità al ciclo dei materiali post consumo e sicuramente quello che può fare la regione Lazio e accelerare deve anche delle dichiare per quanto riguarda il tema dei rifiuti che ancora insomma questo a noi è sconosciuto ecco siamo siamo stati molto chiari molto espliciti perciò tutti quanti conoscono quelle che sono le linee di indirizzo di questa amministrazione e attendiamo appunto in modo chiare in modo esplicito le linee di indirizzo della regione Lazio e anche del del governo una domanda banale a chiusura di questa di questo spazio anzi grazie per averci dedicato più tempo grazie a voi domanda sciocca può sembrare ma allora per quale motivo cioè quali sono le criticità che insorgono perché si creano questi momenti di blocco della gestione problemi tecnici agli impianti oppure effettivamente una sovrapproduzione di rifiuti nella catena un po' nella catena di montaggio dov'è l'ingranaggio che si inceppa a partire dalla sempre più bistrattata anche dal punto di vista mediatico dico è ama innanzitutto insomma guardi allora diciamo sono problematiche di carattere o stagionale come appunto avete accenato voi nel senso che comunque non vi è diciamo una come dire un conferimento lineare solitamente anche nelle stagioni estive diciamo c'è una maggiore produzione di materiale post consumo o comunque possono esserci delle problematiche legate a degli impianti che sicuramente diciamo sono degli impianti che ad oggi hanno la necessità di essere supervisionati perché comunque è un'impiantistica insomma che ha anche un certo tempo però ecco noi quello che abbiamo fatto finora con Ama è garantire diciamo la funzionalità di questi impianti facendo di lavorare H24 facendo dei controlli anche serrati perciò sulla propria operatività insomma dell'impianto stesso che deve funzionare anche per garantire comunque il benessere del lavoratore insomma per quanto riguarda la propria sicurezza perciò insomma ad oggi comunque gli impianti stanno lavorando vogliamo il nostro pensiero ma che in realtà non è una filosofia ma è un ragionamento comunque ad arrivare poi in modo progressivo speriamo nel miglior tempo possibile una chiusura di questi impianti che sono quello di salare e quello di rocca ciencia insomma questo lo diciamo con chiarezza insomma non ci nascondiamo è quello che vogliono i cittadini ma è quello che vogliamo anche noi perfetto grazie grazie ancora e buon lavoro grazie mille grazie a voi è stato un piacere a presto buon lavoro anche per noi buon lavoro buon lavoro ringraziamo ringraziamo l'onorevole Daniele Diaco presidente commissione ambiente dell'assemblea capitolina è stato molto chiaro tra l'altro ha preso anche impegni abbastanza precisi che sono quelli della campagna elettorale precisi che insomma quindi all'interno del mandato elettorale della della sindacaraggi insomma quindi ottenere dei risultati come ha detto proprio nel finale dell'intervista la chiusura di determinati impianti la realizzazione delle isole ecologiche delle domus ecologiche e arrivare alla quota 70 cioè il 70% appunto di raccolta differenziata qui a Roma rendendo Roma un comune virtuoso ha parlato bene insomma mi pare che ci sono insomma ha sottolineato il fatto che a Roma ma come era facile pensare ci sono proprio dei macro problemi strutturali proprio a monte cioè l'impiantistica è obsoleta frutto di decisioni di 40 anni fa ormai però ci stiamo portando appresso chiudere determinate realtà da parte ad esempio dell'aggiunta Marino fu una decisione che insomma dal punto di vista mediatico fu di grande impatto però poi come diceva insomma poi il post il problema è sempre il dopo cioè come si gestiscono determinate realtà e infatti tutte le criticità sono ahimè venute a galla Alessio vediamo un po' se da qui ai prossimi mesi insomma c'è qualche cosa di concreto insomma si avvera no? speriamo noi intanto ci facciamo una pausa musicale andiamo avanti come tu giustamente hai suggerito ascoltandoci la voce di Chris Cornell tra l'altro l'ennesimo grande musicista performer che io non vedo mai dal vivo sai quando uno dice porca miseria potevo andarci a quel concerto eh beh ci dovevi andare mi dispiace tu mi ci potevi invitare anche pagandomi il biglietto visto che ho una condizione economica un po' difficoltosa comunque ci ascoltiamo audio slave l'archestone e poi torniamo perché caro Valentino di altra opinione naturalmente è l'assessore all'ambiente della regione Lazio rispetto a quanto ci ha detto che avremo dopo avremo subito dopo